Sabato notte l'omicidio in zona Giambellino dove si chiede un'accelerazione sul piano periferie. Sì, è proprio vero che in effetti il piano periferie nostro è mirato a soprattutto mettere a posto i luoghi fisici, le residenze, i luoghi di incontro, la sicurezza, è un'altra materia che si deve andare a sposarsi appunto con il ripristino delle aree. Piazza Tirana era ed è una piazza, è un luogo delicato, sono alcuni altri anche luoghi delicati di Milano, anche iniziative come queste possono servire, nessuno ha la bacchetta magica e quindi continueremo a impegnarci sempre.